Vogliamo giustizia per Gigi e Titti, chi ha commesso questo orrendo crimine deve pagare. A parlare sono i familiari di Immacolata Sisi e Luigi Simeone, assassinati barbaramente il 18 aprile dello scorso anno, i cui corpi furono gettati nella cava di Masseria Monticelli a Barcaturo. E proprio sul luogo dell'atroce delitto i familiari della coppia di Conigi si sono recati per la prima volta a distanza di un anno. Arrendero omaggio a marito e moglie. C'erano tutti, tra cui le due sorelle, il fratello di Immacolata, Titti come la chiamavano tutti e la sorella di Gigi. Hanno installato una croce e una loro foto che li ritrae sorridenti come erano soliti essere. Poi, tra le lacrime e la commozione, hanno lanciato nella cava dei mazzi di fiori il loro ricordo. Con loro c'erano anche dei poliziotti del commissariato di Giuliano che per primi accorsero sul luogo del dramma e che poi assicurarono alla giustizia che si sarebbe macchiato del duplice omicidio. Due persone uniche, 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 uniche. Se parlate con i tassisti di Napoli, di mio cognato, ma non dico poi di mia sorella, un angelo. Come si fa? Io non ho idea. Cioè, stando in questo posto qua mi sto rendendo conto che questo è un diavolo che ha scogitato tutto. Un diavolo, diabolico, premeditato, assolutamente. Lui ha studiato tutto, punto per punto. Perché è un posto che solo studiandoci si può arrivare. Non esiste, però stiamo ancora a giudicare questa persona. Non so più dirvi. Lei cosa si ricorda di quel giorno? Ah, che mi ricordo. Mi ricordo solo che mi chiamò la gemella, Susi. Mi disse che non sentiva più la sorella parlare, che rispondeva di rispondere al telefono. E si preoccupava. Io le dissi, ma non ti preoccuparti, stai addormento. Disse, no, 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 già la conosco, sicuramente è successo qualcosa. Quel giorno mi è rimasto in pressa. Sono corso a casa e c'erano già il mio cognato, la polizia, che erano già intervenuti. E si parlava che non si trovavano le due persone. Questo mi ricordo. E poi piano piano la giornata. Il cadavere che mia sorella, che è stato trovato qua a 20 metri. Gino l'hanno buttato ancora più giù. Come si fa ad essere così diabolici? Non lo so. Poi vogliamo togliere la pena di morta, la sedia elettrica, ma stiamo scherzando. E che cosa chiede ai giudici che dovranno emettere? Ergastolo, Ergastolo, Ergastolo. Assolutamente. Ergastolo. Deve marcire in galera. Quando lei era da solo? Senta, mi fa una domanda. Il mostro, perché non oso chiamarlo, definirlo col nome, dice che non era lui, non è stato lui. Addirittura si dichiara innocente. Era da solo. Questo non lo so rispondere. Non le posso rispondere io. Deve fare la domanda più alla magistratura, alla polizia. Non lo so. Fiducia dalla magistratura? Moltissimo. Veramente. Non mi credevo. Anzi, credevo. Dicevo a mia moglie, ma come mai? Ma non si fa niente. Non si parla. Invece, col tempo, sto avendo un sacco di soddisfazioni dalla magistratura, dalle leggi. È tutto. Li ringrazio. Li ringrazio di cuore. Hanno fatto una brutta morte tutte e due. Due persone speciali per tutti, per noi che siamo le sorelle. Non è perché noi siamo le sorelle, erano proprio speciali. Tutti mia sorelle era solare. E fine un'ora e mezza prima a telefono mi ha parlato sempre con tutta quella sua gioia di vivere. Questo solo. Cosa si ricorda di quel giorno, Sia? Lei che è gemella. Che è alle 10 meno 20. Ho avuto questa percezione. Cioè, dovevo chiamare, ho mandato due whatsapp e lei non mi ha risposto. Però lì, per lì, non ho capito. Però mi sentivo una tristezza, non lo so. Poi, il mattino dopo, ho messo a fuoco tutto. Che non rispondendo al telefono, non rispondendo ai cellulari, ho capito che era successo qualcosa di grave. Per forza di grave. Perché lei ci chiamava cinquanta volta a giorno. Quindi non sentirla la mattina per dire quello che aveva fatto il sabato sera, già era un segno che non era... lei doveva farci partecipare a tutte le sue cose.